Musica Oggi facciamo qualcosa di molto interessante, abbiamo portato la bellezza alla festa del cinema di Roma, Romeo Academy, che è una delle accademie più famose d'Italia, sponsor di Miss Italia e sponsor della festa del cinema di Roma. Oggi, come l'anno scorso, le ha messe insieme, quindi tra pochi minuti, da poco più di mezz'ora, ci sarà un red carpet dove sfilerà Miss Italia, Miss Italia in carica, la terza classificata, avrà anche la patron di Miss Italia, la signora Valencia Megliani, che sfilerà insieme a me, che sono l'amministratore di Romeo Academy, e niente, seguiteci, mi raccomando, venite a vedere quello che facciamo. Musica Mi trovo qui per seguire l'evento del festa del cinema in occasione a Miss Italia, e la vincente di Miss Italia, da già due mesi che curo la sua immagine per i capelli, e insieme a Stefania Dell'Anno, che lei è la sua truccatrice, segue lei dal percorso che ha fatto a Jesolo fino a qui. Sì, esatto, noi curiamo anche Miss Italia, infatti siamo stati poco tempo fa, perché a settembre c'è il grande evento di Miss Italia, e adesso siamo qui con Alice Rachele, Miss Italia 2017, che farà red carpet, qui al festival del cinema, e noi curiamo appunto il trucco e il parrucco di queste bellissime ragazze. Mi sembra che è già il secondo anno, o il terzo anno, che lei fa Miss Italia. È il secondo anno, esatto, con tutto lo staff truccatore di Romero Academy. Da Alice Sabatini alle altre fino adesso. Sì, mi ho visto crescere tre. Sì, mi ho visto crescere tre. Sì, mi ho visto crescere tre. Sì, mi ho visto crescere tre.